Mi sento abbracciata da un abbraccio che ha i colori dei cinque continenti e mi viene in mente anche la carità, la passione e quanto è bello incontrarsi così e brava Maddalena perché è lei che sa fare queste cose e lei è quella che in questo momento ci fa trovare, ci fa gioire, ci fa amare e ci fa sperare Grazie Maddalena